Isa Barzizza, la subrette che ha illuminato la scena teatrale e cinematografica italiana nel secondo dopoguerra, è tragicamente scomparsa a domenica 28 maggio all'età di 93 anni, gettando il cinema italiano nel lutto. La notizia della sua morte è stata annunciata dal parroco di Palau, Don Paolo Pala, tramite un commosso post su Facebook. Nata con un talento innato per l'arte della recitazione, Isa Barzizza ha lasciato un'impronta indelebile nella storia del cinema italiano. Ha condiviso il palcoscenico e lo schermo con leggende come Totò, Carlo Campanini, Nino Taranto, Walter Chiari e Carlo D'Apporto, dimostrando una versatilità e un carisma unici. Considerata la musa di Totò, Isa Barzizza ha preso tutti i segreti del mestiere da uno dei più grandi comici italiani. In numerose interviste, ha raccontato di come Totò le abbia trasmesso preziosi insegnamenti, come il rapporto diretto con il pubblico e l'importanza della mimica e dell'utilizzo dello spazio sul palco. Oltre ad avere una carriera di successo nel cinema, Isa Barzizza ha brillato anche nel mondo del teatro, conquistando il cuore degli spettatori con la sua leggerezza e il suo spirito vivace. Dopo oltre 40 anni trascorsi a Palau, in provincia di Sassari, la sua città adottiva, Isa Barzizza ha lasciato un vuoto profondo nel panorama artistico italiano. La sua scomparsa è stata accolta con grande dolore e commozione da parte dei colleghi, dei fan e di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerla e ammirarla. Con la sua eleganza e il suo talento, Isa Barzizza rimarrà sempre nei cuori degli italiani, come un'icona del cinema italiano e una delle più affascinanti attrici della sua epoca. La sua eredità artistica continuerà a ispirare le nuove generazioni di artisti, che cercheranno di emulare il suo carisma e la sua grazia senza tempo. Prima di concludere, vorremmo ringraziarti per la visione del nostro video e invitarti a iscriverti al nostro canale e attivare la campanella delle notifiche per ricevere aggiornamenti sulle ultime notizie e curiosità. Sarà un modo per rimanere sempre aggiornato su eventi di grande rilevanza come questo. Inoltre, apprezziamo molto i tuoi commenti e feedback, quindi non esitare a lasciare un commento qui sotto con la tua opinione. Grazie per il tuo supporto.